Con l'operazione di oggi, i carabinieri di Palermo, su disposizione della procura distrettuale, hanno dato eseruzione a 11 fermi di altrettanti soggetti vicini a una delle compagini mafiose più potenti e storiche nel territorio della provincia, quella di San Mauro Castelverde, un gruppo familiare che utilizzava la notorietà del proprio nome criminale per imporre il pizzo estorsioni per vessare la vita di una comunità. Ci piace sottolineare che in questa occasione, come in altre recentemente, alcuni imprenditori si sono rivolti direttamente ai carabinieri per segnalare il pizzo. Questa è la risposta giusta, rivolgersi alle forze dell'ordine e della magistratura per affermare il diritto e eliminare la piaga della mafia da una terra così bella come la Sicilia.